Fausto Leali sfogo sui social, mi hanno svaliggiato e distrutto la casa. Torni a casa e ti accorgi di questo, quattro uomini slavi che ti distruggono una casa, la tua dimora è dove dovresti sentirti protetto e ti sottraggono tutto quello che hai costruito negli anni, compresi tutti i miei premi e dischi d'oro vinti durante i miei anni di carriera. È lo sfogo di Fausto Leali, che ha postato sui suoi profili Twitter e Facebook le immagini della sua abitazione sottosopra. Ti portano via tutto, conclude il cantante, che vive all'esmo, Monza e Brianza, che tristezza. Oltre 1500 i commenti di solidarietà da parte dei fan, c'è chi racconta di aver vissuto esperienze simili, chi si scaglia contro i maledetti bastardi e anche contro chi ci governa che invece di pensare a noi italiani pensa come affossare di più l'Italia con lo Iussoli. Il cantautore commenta. Qui non c'entra essere famosi o no, qui siamo in pericolo tutti. Ma c'è anche chi si domanda, ma come fai a sapere che erano slavi, lasciando intendere una forte preoccupazione rispetto all'intolleranza crescente nei confronti degli stranieri. Un'intolleranza che genera mostri anche dove non ci sono. Un'intolleranza che genera non ci sono.